Il mio collega Jack mi ha proposto una sfida con la schiuma poliuretanica. Guardate. Guardate, siamo pronti. Dai, forza Jack. Guardate, guardate. Incredibile. Voglio dirvi una cosa. Questa è una vera schiuma poliuretanica. È molto appiccicosa. Prendo una salvietta heavy duty, la strofino sulle mani ed è fatta. E questo è il bello di queste salviette. Il bello delle Big Wipes heavy duty 4x4. Sono fatte di un ottimo tessuto, un po' ruvido, che pulisce e aderisce meglio. Come vedete, c'è un po' di schiuma. È una reazione chimica. Ecco, guardate. Voglio fare una cosa. Prendo un pezzo di carta assorbente per asciugarmi le mani. Guardate. Ora vi mostro una cosa. Visto? Non appiccica. Ve lo dimostrerò facendo questo. Guardate. Incredibile. Visto? E vedete il panno? Non ho finito. Posso pulire questa superficie senza alcune difficoltà. Ed ecco perché quando si tratta di rimuovere la schiuma poliuretanica, le Big Wipes sono la risposta. Non ho finito. Grazie.